La FIDA alla metà novembre ha pubblicato le norme per le attività del 2024 e le novità, le modifiche non sono poche non sono tante quante l'anno scorso perché nel 2023 ci sono state veramente tantissime novità però anche quest'anno non sono poche e questo sarà il primo di una serie di tre video in cui cerco di raccontarvi un po' le modifiche, le novità introdotte in maniera tale da rimanere sempre sul pezzo con le novità del regolamento Oggi ci concentriamo per quanto riguarda i campionati italiani Partiamo subito con la novità principale che sicuramente sarà apprezzata da tutti ovvero da quest'anno si cerca di evitare il più possibile che ci siano delle corsie vuote in semifinale e in finale nei vari campionati perché se qualcuno dovesse rinunciare a partecipare a una semifinale o una finale cosa che può benissimo succedere per infortuni vari dell'ultimo minuto o per altre motivazioni se questa rinuncia viene fatta entro 45 minuti prima dell'inizio della semifinale o della finale stessa allora verrà ripescato il primo atleta degli esclusi e via di seguito se ci sono due rinunce verranno ripescati i primi due e così via proprio per evitare il più possibile che ci siano delle corsie vuote questa novità deve essere ovviamente inserita all'interno del regolamento del campionato per essere valida però vale per ogni singolo campionato dagli assoluti in giù per quanto riguarda i campionati italiani in generale c'è stata aggiunta la possibilità di avere una scadenza del minimo diversa rispetto a quello della chiusura delle iscrizioni il che vuol dire in via ipotetica che un minimo di partecipazione può essere fatto dopo la chiusura delle iscrizioni oppure deve essere fatto tre settimane prima quindi questa è soltanto una possibilità non vuol dire che verrà applicata però a livello di regolamento è stata aggiunta sempre per quanto riguarda i minimi di partecipazione è stata aggiunta la clausola per cui una staffetta non può fare il minimo di partecipazione un campionato italiano se al suo interno c'è un atleta prestato per un singolo giorno il che mi sembra anche giusto adesso però entriamo nel dettaglio dei singoli campionati parlando prima del campionato italiano assoluto che è quello che ha subito un po' più di modifiche gli italiani assoluti si svolgeranno il 29 e il 30 giugno in sede ancora da definirsi anche se probabilmente sarà la spezia data che è posta dopo i campionati europei che si svolgeranno a Roma dal 6 al 12 giugno è data difficilissima da scegliere perché il 2024 è pieno di impegni campionati europei inizio giugno e giochi olimpici ad inizio agosto e bene o male questa era l'unica data possibile perché considerate che a luglio ci sono tre tappe della Diamond League prima ci sono i campionati europei quindi doveva incastrarsi all'interno di tutto un panorama anche internazionale e proprio parlando del campionato italiano assoluto sono stati rivisti un po' a rialzo i target number ovvero il numero ideale di partecipanti che si vogliono avere dai 100 ai 400 metri compresi gli ostacoli si passa da 16 a 24 partecipanti dai 1500 in poi si passa da 12 a 16 gli 800 metri rimangono a 16 partecipanti così anche come le staffette però dai 1500 metri in su si passa da 12 a 16 partecipanti e poi tutti i concorsi rimangono a 12 poi parlando del campionato italiano assoluto non si può non citare il challenge che si svolgerà il 15 e il 16 di giugno quindi appena dopo i campionati europei e che rispetto all'anno scorso garantirà dei posti sicuri per l'accesso ai campionati italiani assoluti perché vi ricordo che l'anno scorso il challenge garantiva un accesso prioritario ai campionati italiani assoluti solo nel caso in cui ci fossero ancora posti disponibili mentre quest'anno è stata garantita la possibilità dei primi tre del challenge di andare direttamente al campionato italiano assoluto indipendentemente da quanti hanno già fatto il minimo di partecipazione agli assoluti e quindi di sicuro i primi tre ci andranno poi come ormai tradizione da qualche anno se il numero di partecipanti del campionato italiano assoluto non raggiunge il target number neanche con i minimi di partecipazione e neanche con i primi tre del challenge allora a quel punto si comincia a ripescare dal challenge dal quarto al quinto posto al sesto e così via però uguale all'anno scorso rimane il fatto che i campioni italiani uscenti hanno diritto a partecipare gli italiani assoluti di quest'anno e poi rimane la possibilità della direzione tecnica di invitare tramite wildcard potremmo dire atleti di interesse internazionale che per chissà quale motivo non hanno fatto il minimo di partecipazione ovviamente si parla di pochissimi atleti che potrebbero usufruire di questa cosa perché si parla di atleti di interesse internazionale abbandoniamo gli assoluti outdoor e passiamo a quelli indoor che hanno un bel cambiamento anche loro perché per quanto riguarda gli italiani assoluti indoor che sono previsti il 17-18 febbraio 2024 ad Ancona viene introdotto il concetto di minimo A e di minimo B come è logico chi fa il minimo A parteciperà sicuramente ai campionati italiani assoluti mentre chi farà il minimo B entrerà in una waiting list in una lista di attesa il che banalmente vuol dire che si parteciperà gli italiani assoluti indoor solo nel caso in cui non si raggiungano tramite minimo A i partecipanti previsti cioè il famoso target number target number che vede una diminuzione per quanto riguarda le corse lunghe cioè 800, 1500, 3000 e anche la marcia vedranno una diminuzione dei partecipanti da 16 a 12 12 saranno anche le staffette e i concorsi nei 400 metri si rimarrà con 15 partecipanti mentre nelle gare brevi 60 e 60 ostacoli si rimane con 24 partecipanti passiamo ora a parlare delle categorie giovanili che vedono poche novità tra cui la sospensione per il 2024 del trofeo nazionale delle province ragazzi e ragazze e badate bene non si tratta di una cancellazione dell'evento ma di una sospensione per il 2024 quindi si presume che per il 2025 ritornerà poi grossa novità per quanto riguarda i campionati outdoor giovanili vengono separati i campionati di prove multiple da tutti gli altri quindi allievi, juniores e promesse avranno un campionato di prove multiple nella stessa giornata dal 21 al 23 giugno e se per le prove multiple vediamo una separazione dei campionati italiani per le altre specialità vediamo invece un accorpamento perché campionati italiani, juniores e promesse torneranno a essere svolti insieme dal 26 al 28 luglio ovviamente anche qui in sede ancora da definirsi e tornano insieme perché l'anno scorso la separazione di questi campionati è stata un'eccezione perché l'anno scorso vi erano i campionati europei under 23 e quindi per evitare picchi di prestazioni troppo prolungati e programmazioni insensate agli atleti si era deciso di separare gli under 23 in maniera tale da metterli un po' più vicini ai campionati europei under 23 che erano il clou della loro stagione mentre quest'anno non ci saranno gli europei under 23 non ci saranno neanche gli europei under 20 e quindi si è deciso di tornare tutti insieme l'unica cosa che hanno quest'anno gli under 20 sono i mondiali under 20 che si svolgeranno a fine agosto però anche lì la scelta era decisamente difficile per l'inserimento in calendario degli under 20 a livello di campionati italiani perché se lo metti a metà agosto hai il rischio che sia un campionato italiano deserto anche perché ok parliamo dei migliori under 20 d'Italia però comunque parliamo di under 20 quindi magari devono andare in vacanza con le famiglie che non possono allenarsi e quindi varie ragioni che rischiavano di avere un campionato italiano deserto se fatto a metà agosto mentre a metterlo prima molto presto nella stagione è troppo presto per gli under 20 e poi ricordo comunque che gli under 20 la metà di loro hanno la maturità quest'anno quindi metterlo a giugno inizio luglio creerebbe problemi a livello di maturità per metà degli juniors quindi scelta difficile di incastrare tutti i vari impegni tutte le varie dinamiche che possono esserci e quindi secondo me ci sta a fine luglio un buon compromesso tra il lontano dalla maturità e abbastanza vicino dal picco di forma che si richiederà a fine agosto per i migliori under 20 passiamo agli under 16 ai cadetti l'unica novità per quanto riguarda i campionati italiani outdoor cadetti è il fatto che dagli 80 ai 300 compresi gli ostacoli ci saranno sempre le finali A e B indipendentemente dal numero di atleti partecipanti perché prima il regolamento prevedeva la finale A e la finale B solo nel caso in cui ci fossero abbastanza atleti da fare almeno 4 serie mentre adesso è stata tolta quella dicetura e quindi semplicemente si faranno sempre le finali A e B poi ci sono stati dei piccoli aggiustamenti per quanto riguarda gli italiani cadetti di corsa su strada campionato italiano nato l'anno scorso e quindi dovrà ancora trovare un po' la sua quadra prima di tutto adesso le iscrizioni diventano gratuite per questo campionato italiano e poi in regola che c'era già l'anno scorso le regioni possono iscrivere oltre ai loro 5 rappresentanti cadetti e 5 rappresentanti cadette altri 5 cadetti e cadette che gareggiano a titolo individuale però l'anno scorso questi atleti che gareggiavano a livello individuale dovevano essere per forza all'interno dei primi 50 delle graduatorie nazionali dei 2000 metri mentre per il 2024 questo vincolo verrà tolto quindi verosimilmente aumenterà la partecipazione e con questo dovrà aver concluso tutte le novità e modifiche riguardo ai campionati italiani del 2024 e quest'anno rispetto all'anno scorso ho deciso di scorporare il video in maniera tale che uno se gli interessa solo un argomento si guarda solo quell'argomento non si deve sorbire un video da mezz'ora, 40 minuti per tutte le novità di tutte le norme nel prossimo video dedicato alle norme mi dedicherò ai vari campionati di società che sarà un argomento molto vasto probabilmente più vasto di quello di oggi e poi nel terzo e ultimo video parleremo delle norme generali modificate e anche dell'attività master che ha subito un po' di rimaneggiamenti anche quella spero vivamente che questo video vi sia stato utile per capire un po' le novità di queste norme e soprattutto così non dovete leggervi oltre a 200 pagine di norme spero di essere stato chiaro nella spiegazione e nel caso di dubbi o nel caso doveste aver riscontrato degli errori nella mia esposizione vi prego di farmelo sapere nei commenti così che tutti possiamo avere il quadro più corretto e completo possibile di queste novità mi raccomando lasciate un mi piace al video per supportare un po' il canale iscrivetevi se non l'avete ancora fatto grazie mille se lo fate da questo esatto momento e grazie mille se siete già iscritti buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare che ormai siamo nel pieno della stagione di cross e tra poco cominceranno anche le indoor ciao ciao